Il digitale terrestre continua a creare molti problemi ai cittadini, per questo bisogna garantire al più presto un corretto e stabile funzionamento delle trasmissioni televisive su tutto il territorio nazionale. Non ha solo attaccato per l'ennesima volta Monti, che parla all'Italia dalla Luna, sentenziato, non ha solo risposto al PD locale, rispedendo al mittente le accuse di aver fatto un tratto di strada a braccetto con Iorio. Antonio Di Pietro, dopo aver dato ai giornalisti materiale per una settimana, ha chiesto al ministro Corrado Passera un intervento del governo sul caos provocato dal cosiddetto switch-off. Il passaggio alla tv digitale, ha ricordato il leader dell'Italia dei Valori, è partito nel 2008 e da allora in tutte le regioni sono state riscontrate numerose disfunzioni, ma i disservizi, ha sottolineato Di Pietro, si sono verificati soprattutto in Molise, dove i cittadini non possono avere accesso ai canali RAI per i quali pagano il canone, né a quelli locali in particolar modo sulla costa. Pertanto Di Pietro ha chiesto al ministro Passera quale sia la vera ragione del disservizio e quali provvedimenti intenda intraprendere con urgenza per assicurare il corretto e stabile funzionamento del digitale terrestre in Molise sull'intero territorio nazionale. Sul terreno della politica le sue dichiarazioni hanno già scatenato una mezza rissa a sinistra e sulla polemica provocata dal fuori onda su Grillo, Di Pietro ha commentato così. Prendiamo atto di come tutta l'informazione pubblica sta esaltando uno sfogo fuori onda detto da uno che fa politica all'interno di quel movimento. Se potessimo registrare gli sfoghi fuori onda che tutti i politici di lungo corso dicono tutti i giorni di quel che abbracciano e baciano pubblicamente, ne vedremmo di belle. La verità è molto semplice, che quel movimento dà fastidio e come è successo a noi, sta succedendo anche a loro. Quelli che danno fastidio si cerca di delegittimarli, denigrarli.